La settimana del miele di Montalcino è un appuntamento importante per tutti gli appassionati del dolce nettare, ma anche un'occasione golosa per scoprire le tante varietà e i possibili abbinamenti da poter fare con il miele. Tante varietà di miele, una molto particolare arriva proprio dalla Sicilia, è il finocchietto selvatico. Questa varietà particolare, come viene prodotta e quali sono gli abbinamenti del miele al finocchietto selvatico? Il miele è il miele di ferla o ferula, che è il finocchiaccio selvatico, viene prodotto nella zona di Sortino, in Sicilia, e il fiore è un fiore particolare, nel senso che quando è piccolo, quando è giovane, è un fiore normale. Quando diventa adulto, il fusto diventa lineo e veniva utilizzato per produrre le arnie, tant'è vero che il miele di ferla è anche un tipo di miele che viene prodotto utilizzando queste arnie, indipendentemente dai tipi di fiori con cui vengono fatti. L'abbinamento è con i formaggi dal sapore delicato, perché è un miele che ha un sapore molto deciso di suo. Non posso resistere, devo assolutamente assaggiare questa crema di nocciole al miele. Questa crema al miele con le nocciole, cosa significa unire un prodotto come il miele a altre tipologie di prodotto? Ci sono degli abbinamenti possibili che si possono fare con questa crema di nocciole? Questa è la nostra specialità, è una crema di nocciole che si ottiene dalle nocciole tostate, macinandole a pietra, otteniamo questa base crema di nocciole dove aggiungiamo del miele. Chiaramente le nocciole miele, risaputo che sono buone, già da tempo si usava la nocciola bagnata sul miele. Così si ha una fragranza maggiore, perché la nocciola macinata sprigiona un aroma non comune. Questo prodotto può essere tranquillamente abbinato su pane, fette biscottate, crackers o su dei formaggi. Com'è questo gelato al miele? Tanti prodotti che vengono fatti con il miele, non solo gelato, non solo tartufo ma anche cioccolato. Come viene prodotto? È buono? È un prodotto genuino? Sì, è un prodotto buono, l'abbiamo fatto proprio per l'occasione di questa manifestazione. E' questo connubio tra il cioccolato al latte e il miele ai millefiori. E' una tavoletta che ho visto dai bambini ai grandi, è molto apprezzata. Non potevamo che finire il nostro giro con il miele di Montalcino, ma com'è questo miele? Buonissimo. Come tutte le cose, anche quest'anno il miele è venuto eccezionale. In quantità limitate purtroppo l'annata non è stata proprio delle migliori, però la nostra terra da sempre un buon prodotto.